sono arrabbiato, sono amareggiato, sono incazzato, sono infastidito tra l'altro buona serata di Halloween a tutti quanti per chi decide di festeggiarlo con gli amici auguri, anche se auguri non esistono, è semplicemente una festa non festa che a mio avviso, a mio parere può essere festeggiata allora tanti auguri a tutti quanti, buon divertimento per questa sera però ci tenevo comunque al di là di tutto, al netto di questo, a dire la mia perché me la sono tenuta un pochino da parte, mi sono voluto tenere un pochino da parte ma perché si ho messo muto? Mi sono voluto tenere un pochino da parte la situazione ho voluto aspettare un attimo, ma adesso in questo momento vi dico il mio punto di vista ho visto la conferenza post partita di Mourinho contro l'Inter ieri vi ho fatto un day after nel quale mi incazzavo ho detto voglio aspettare un attimo, voglio sbollentire un secondo perché andare avanti a fare sfoghi per quanto mi riguarda c'è poco senso cioè magari fai anche views, bene, bello, tutto molto bello però poi qual è il senso di andare avanti a fare sfoghi? ho detto aspettiamo un attimo, mi son sentito oggi in giornata le parole di Jose Mourinho perché c'aveva un senso andare a sentire le parole di Mourinho perché ci sta che tu capisci che magari la partita è andata in un determinato modo perché tu l'hai preparata male, fai mea colpa, parli e per me questo cambia tutto ok, può cambiare tutto io, io non mi sono lamentato perché abbiamo giocato male io mi sono lamentato perché non ci siamo presentati ok, io mi sono lamentato perché la Roma ha rifiutato l'approccio offensivo alla partita perché la Roma non ha avuto voglia di giocare la partita e non fare difese e ripartire perché Napoli-Roma, Roma-Napoli dello scorso anno qualcuno ve lo scrive sotto il video, cosa cambia? cambia tanto, cambia tanto, cambia il fatto che lo scorso anno a Roma-Napoli tu comunque in qualche modo provavi poi non sei mai arrivato in porta e hai fatto zero tiri va bene, ma tu provavi a partire in contropiede, a crearti qualche occasione non mi piaceva comunque il modo in cui era stata preparata però tu almeno quell'idea lì ce l'avevi contro l'Inter tu per 90 minuti non hai fatto nient'altro che spazzarla la palla spazzarla, spazzarla, spazzarla la differenza tra Roma-Napoli e Inter-Roma è che Roma-Napoli sei stato bravo anche a preparare la partita sotto il punto di vista difensivo cioè il Napoli ha creato una palla goal, una, una e l'ha buttata dentro tu ne hai creati zero e lei non ne ha buttati dentro nessuna ecco, la differenza di base qual è? la differenza è che contro l'Inter tu meritavi di prenderne 4, 5, 6, 7 tu non sei stato bravo a dire se questa partita fosse finita 4 a 0 che cosa, di che cosa ci lamentavamo? fatemi sapere, di che cosa ci lamentavamo? di niente, di niente, ok? di niente e la cosa che mi infastidisce perché adesso andiamo a prendere la conferenza di Murigno la andiamo a commentare e a me le parole di Murigno mi danno estremamente fastidio io provo un estremo fastidio nel leggere le parole di Murigno ecco, basta piangere quello che dico io è che basta piangere non ha senso piangere se non giochi non ha senso piangere se non hai voglia di giocare se tu vuoi giocare e poi succede qualcosa che poi siamo stati anche graziati perché poi è inutile che ci lamentiamo dell'arbitraggio vi ricordo che c'era un doppio giallo su Paredes e io ve lo dico con grande traccio c'era un doppio giallo su Paredes che non è stato dato per fortuna, anzi per sfortuna non lo so dipende dai punti di vista però non è stato dato non è stato dato il doppio giallo per Paredes quindi ci hanno anche graziato tutto questo punto di vista visto che vogliamo attaccare il sistema ma queste lamentele non hanno mai senso ma possono avere più senso se tu vai a giocartela con l'idea di andartela a giocare tu non vai con quell'idea lì tu non vai con quell'idea lì un mio amico ieri o l'altro ieri mi viene a dire ma perché pensa Murigno di poter vincere la partita e far giocare Zaleski su Dunfris e Di Marco su Christensen la mia risposta è stata queste due affermazioni sono inutili perché quando si parla di disposizioni tattiche possono avere un senso se tu prepari la partita in qualche modo la partita non è stata preparata la partita non è stata preparata in nessun modo è inutile che mi venite a dire l'abbiamo preparata così non l'avete preparata sono capace anch'io a fare l'allenatore a prepararla in quel modo lì ragazzi tutti i giorni se vi capita un po' non è spazzatela basta basta non l'avete preparata non c'è stato uno straccio di preparazione in questa partita se c'è stato è stato completamente sbagliato ma che avete fatto settimana? andate a Arsushi a giocare bullying cioè che cosa avete fatto questa settimana? perché non mi puoi dire che la Roma ha preparato la partita contro l'Inter e la preparazione è stata quando ti capita un po' non è spazzalo non quando ti capita io ti dico già già che poi vabbè nel 2023 è assurdo però già dire quando ti capita il Polone dà la del Sharawi che riparte si fa tutta la fascia e serve dentro Lukaku capisco che c'è uno straccio di preparazione uno straccio uno straccio non dico non dico la preparazione migliore della storia uno straccio ecco questo non c'è ma un'altra cosa ma voi mi venite a parlare l'amico mi veniva a parlare delle coppie Dunfrid-Zaleski di Marco Christensen quando io ancora non capisco come cazzo sia possibile che la Roma gioca col 3-5-2 e mi può andar bene ma nel 3-5-2 nel 3-4-2-1 nel 3-4-1-2 cioè nei moduli con i quinti di centrocampo la forza sono i quinti di centrocampo se tu non hai due quinti forti fai cagare la Roma i quinti forti non li ha non li ha cioè Spinazzolo è un buon terzino che non c'era Zaleski non è un quinto e comunque quando fa il quinto fa schifo Christensen è un giocatore mediocre perché è un giocatore mediocre tu l'hai preso per aumentare la tua mediocrità Selic l'hai preso per aumentare la tua mediocrità Karlsworth è un altro mediocre sono tutti tra i 5-5 e 6-5 ok e tu non puoi fare un modulo così tu puoi prendere terzini di questo tipo se fai la difesa 4 e i terzini manco te fanno da fluidificante servono solo per espirare allora in quel caso mi dici uno difende l'altro spinge ma non mi servono a nulla perché ho due attaccanti che al tempo erano Gervigno e non mi ricordo chi cazzo era quell'altro ti dico c'hai ragione va bene così giochiamo con due terzini che ti danno una mano la Roma giocò anche con Torosidis e con Olebas come i terzini non era un problema certo quando c'era Maicon si vedeva tutta altra cosa ma se tu fai un modulo che punta a giocare con i due laterali che sono due mezzi è inutile che ci giochi è inutile è inutile non stai rendendo è come se tu giochi con il 3-4-1-2 però sulla 3-4 ci metti uno che non sa fare 3-4 che cazzo lo metti a fare non lo mettere scegli un modulo che ti dà un altro straccio di gioco scegli un modulo che ti fa cambiare il sistema di gioco ma poi ma poi li fai giocare a 5 giochi a 5 li fai giocare bassi bloccati ma che senso c'ha ma che senso c'ha io l'ho detto forse ieri nel day after forse l'altro ieri nel video cioè tu sostanzialmente che cosa fai? giochi con 3 centrali sono Llorente Llorente perché non mi vengono chi cazzo Ermancini e Indiga Llorente, Mancini e Indiga giochi con questi 3 Llorente, Mancini e Indiga bene poi giochi con Cristante e Paredes che giocano bassi perché giocavano bassi bassi giocavano giochi con Cristian Sanizzaleschi che giocavano da terzini tu avevi una difesa a 5 con 2 mediani davanti cioè tu di uomini offensivi avevi Bove che poi è offensivo però avevi Bove avevi El Sharawi e avevi Lukaku 3 contro una squadra che è il triplo di te la cosa che dico io è se tu vai a giocare così se tu vai a giocare in quel frangente lì è inutile che mi vieni poi in quel modo lì è inutile che mi vieni poi scusate frangente eccetera ma cazzo è inutile che tu mi vieni a dire eh ma le ammunizioni è quello andiamo a leggere andiamo a leggere le parole perché poi allora con tutta la stanchezza accumulata dice poco tempo per preparare la partita penso che i ragazzi abbiano fatto una gara importante no no ti dico la verità no hanno fatto una gara di merda preparata di merda penalizzata dal fatto che Murigno le abbia messi in campo di merda io non sono uno che odia Murigno e chi mi segue lo sa io difendo sempre a spada tratta Murigno ma quando sbaglia non ho nessun problema ad ammetterlo la partita la perde lui la partita la perde lui perché mette in campo una squadra ridicola ridicola ma non per i giocatori per le posizioni per l'idea di gioco per l'idea di creazione ridicola ridicola dice penso che i ragazzi abbiano fatto una gara importante no ma che importante ma che c'era di importante della gara fatta con l'Inter ma che cosa c'era di importante il culo per non prendere col primo dei primi 80 minuti penso che il feeling di tutto lo stadio non solo il mio era che la partita sarebbe finita con un pareggio no cioè non lo so allo stadio ma io tutta la diretta ho detto tanto obbiamo tanto obbiamo tanto obbiamo ma è chiaro ti fanno una capoccia così per 90 minuti più recupero la squadra è stata tranquilla con tutte le difficoltà sono stati ammoniti Mancini indica due ammonizioni che sembravano scelte come quelle a Cristante e Paredes a centrocampo l'Inter solo Pavard allora sembravano scelte allora a parte che se dice una società mi dà fastidio tanto 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 sentire delle cose del genere cosa chi l'ha scelto chi è che ci penalizza a noi cioè voglio sapere secondo Murigno chi è che penalizza la Roma che ne frega un cazzo a nessuno chi è che che cosa succede se la Roma fa un punto a Milano dimmi cosa succede che vincemo lo scudetto o che arriviamo sesti invece che settimi secondo lui però ci penalizzano ma poi leggo sono stati ammoniti Mancini indica due ammonizioni che sembravano scelte come quelle di Cristante e Paredes ma a Paredes ragazzi gli manca il doppio giallo ma a Paredes ragazzi gli manca il doppio giallo ma di che stiamo parlando ma di che stiamo ma almeno no ma almeno no quando andiamo a fare queste affermazioni ma crediamo in quello che diciamo e cerchiamo di tenere un andamento che ci permetta di essere credibili questa cosa qui non ci permette di essere credibili a mio avviso lui dice mi dispiace per il risultato i ragazzi hanno fatto uno sforzo importante il gol era controllabile era controllabile perché siamo persi un giocatore ma tu essendo un allenatore c'è 30 anni di carriera alle spalle 40 anni dovresti sapere che se tu metti una difesa contro una squadra più forte per 90 minuti a farla attaccare 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 è molto probabile che poi alla fine il gol lo prendi è molto probabile io non capisco di che cosa si stupisce io non ce l'ho se vedete delle mie pagelle guardate le recuperate le lascio qui in alto nelle schede io non ho mai parlato mai parlato mai parlato di dare insufficienze a Iorenta Andica e Mancini perché perché se un allenatore ti mette in quel modo lì a prenderti le pallonate in faccia il gol è normale che tu lo prendi dice mi dispiace che non ci sia rispetto per i giocatori l'atteggiamento di Maresca su Mancini e Andica dimostra tutto sono contento per il concetto di squadra nelle difficoltà non abbiamo avuto metà squadra a disposizione Spinazzola Di Bala Smalling Renato Sanchez Pellegrini allora premessa importante premessa importante io non ho visto niente vi dico la verità da romanista non ho visto niente di male Mancini e nessun Dica anzi per come si comporta Mancini io gli voglio bene io amo Mancini guardate qua eccolo qua io amo Mancini è il mio giocatore preferito della Roma in sostanza però però si veniva più a per culo Mancini è uno che se volano tre pizze a caso arrivano da 5 a qualcuno a caso quindi non mi sembra che Mancini non sia non dico tutelato ma tollerato dagli arbitri anzi mi sembra che ci sia una tolleranza anche abbastanza ampia lui fa dei nomi ne fa esattamente 5 dice Spinazzola Di Bala Smalling Renato Sanchez e Pellegrini lo sapete perché non giustifico questa cosa delle mancanze non giustifico questa cosa delle assenze della metà squadra non a disposizione perché sono giocatori che quando tu hai preso sapevi benissimo che erano giocatori che si rompevano come niente quindi dal momento in cui questi giocatori sono fracichi e tu li prendi fracichi e tu lo dici perché tu dici che Renato Sanchez viene solo perché è fracico e Aouar è lo stesso Smalling l'hai preso perché si rompeva ogni 3x2 Pellegrini ultimamente ha dei problemi fisici Spinazzola è sempre stato questo Di Bala ragazzi ma Di Bala non lo prendevi se non si rompeva sempre Di Bala non lo prendevi allora lo sai lo sai cioè sono cose che succedono perché le metti in conto che per me in una io ve l'ho detto all'inizio anno è sfiga se si rompe Lukaku perché Lukaku non è che sia così tanto poco integro in generale è sfiga se si rompe Ndiga è sfiga se si rompe Mancini è sfiga se si rompe Bove è sfiga se si rompe Cristante è sfiga se si rompe uno giocatore Ruipatrisi o giocatori che sono integri ma se tu prendi i giocatori fragili e li paghi meno perché sono fragili o non li paghi affatto poi non ti puoi stupire se non ce li hai li hai presi apposta li hai presi apposta lui dice venire qua con me da squadra con un altro regalo della Lega un altro regalo della Lega perché giochiamo domenica e non lunedì posso dire che i ragazzi sono stati bravi sono triste perché meritavamo di più ora è vero che potevano mettere la partita a lunedì è vero è vero credo l'abbiano fatto per un discorso di diritti televisivi perché perché la sera c'era il pallone d'oro lunedì sera e non volevano farlo in concomitanza secondo me cioè andava un pochino a pe qualcuno non se la sarebbe vista soprattutto all'estero ok e quindi ci stava è vero che potano farla di lunedì ma non mi sembra sta cosa così clamorosa cioè tu comunque hai giocato giovedì venerdì sabato domenica rigiochi capita capita che giochi tre giorni dopo ma poi soprattutto hai giocato con lo Slavia Praga ragazzi ma qui non stoppavano un pallone cioè non erano capaci a mettere giù una palla ma di che stiamo parlando noi stiamo parlando della squadra top del mondo parliamo dello Slavia Praga a me questi piagnistei mi hanno stufato perché tu qui mi parli del regalo della Lega degli infortunati di Maresca che scegli a chi dare il giallo mi parli del fatto che dobbiamo giocare di lunedì e non di domenica mi parli di Mancini e indica che sono ammunizioni scelte mi fai tutti questi discorsi qua mi dici che meritavamo il pareggio quando non dici la cosa importante non dici la cosa vera la cosa vera è che hai sbagliato partita che ti sei fatto prendere a pallonate perché hai fatto una partita da ridicolo perché la Roma ha fatto una partita da ridicolo io ragazzi io voglio ritrovare e le prendo volentieri le prendo qui con voi le statistiche di quella partita da ridicolo che hai fatto che quella è una partita lo ripeto e lo ripeto e lo ripeto da ridicolo perché è giusto è giusto è giusto Inter-Roma tu giochi Inter-Roma statistiche allora gol previsti 2.08 per l'Inter 0.12 per la Roma 0.12 vuol dire veramente che manco senza squadra avversaria segnavi possesso palla 65-35 tiri 19-3 tiri in porta 3-1 tiri fuori 9-1 tiri fermati 7-1 calci d'angolo 8-0 falli 14-9 cartellini gialli 3-4 quindi tra l'altro parlava di gialli scelti non scelti 3-4 passaggi totali loro ne hanno fatti 570 noi 350 passaggi completati loro ne hanno fatti 501 noi 270 attacchi 135-80 attacchi pericolosi 80-13 sapete quante volte la Roma ha toccato il pallone nell'area dell'Inter 2 2 cioè tutti presenti tutti presenti a Milano tutti presenti a Milano con l'idea di fare una partita da Roma che non vuol dire da partita da squadra ma se tu vuoi hai l'ambizione di andare a vincere se tu hai l'ambizione di arrivare nei primi 4 posti se tu hai l'ambizione di arrivare nei primi 4 posti tu quando vai a giocarti le tue partite le tue cazzo di partite a Milano a San Siro e non dico che devi giocare a sprombattuto e non dico che devi giocare in avanti ma tu hai giocato di merda tu ti sei andato a far prendere a schiaffi in faccia prendere per il culo a Milano questa è la verità cioè non c'è niente di più e niente di meno questa è la verità dal momento in cui succede una cosa di questo tipo per quanto mi riguarda devi stare zitto stai zitto e fai più bella figura invece fai queste dichiarazioni che tra l'altro ne erano nemmeno richieste perché se non sbaglio poteva anche non fare le ha fatte alla Roma perché ci sta ma non doveva andare in conferenza stampa perché era espulso che come al solito andava a Milano Murigno caso strano non c'è mai qui non posso dire nulla perché non so qual è la verità quindi non mi metto a dire a ragione a torto non lo so e alzo le mani però Murigno quando si tratta di andare a andare a Milano a San Siro non c'è mai e quindi già di perse mi dà fastidio perché va bene hai vinto il tripleto sti cazzi me ne frega niente del tuo tripleto non me ne frega nulla ti fila Roma cioè ti fila Roma oggi ti fila Roma perché oggi alleni la Roma alleni la Roma cioè non è che devo andare a fare però io penso io lo dico sempre io sta cosa la dico sempre se De Rossi dovesse diventare l'autore forte io anche quando mi lamento quando mi lamento dei giuventini e se lamentano dei conti è andato all'Inter se De Rossi dovessi andare all'Inter al Milan alla Juve al Napoli certo la Lazio mi dispiacerebbe però in tutte altre squadre non gli direi nulla però lo sapete anche se dovessi andare alla Lazio mi farebbe male mi farebbe strano però non l'odierei ma perché è il suo lavoro ma che deve fare ce ne stanno 5-6 cioè io penso che se a Conte gli avessero detto ti teniamo per cent'anni e ti diamo un grande stipendio se tutto lo vuoi lui avrebbe detto ok quindi Murigno se tu adesso alleni la Roma alleni la Roma pensa alla Roma ma queste cose poi vabbè non sono certificate quindi non voglio manco stare troppo a perdere tempo il discorso che faccio io che è molto più ampio è che se tu fai a Milano e ti fai più a per culo non ti puoi lamentare dell'arbitraggio e delle palle dentro e delle occasioni e dell'arbitro e dei giocatori che vengono ammoniti e delle assenze e del giorno cosa c'entra? tu sei andato lì a fare quella partita lì cosa sarebbe cambiato dimmi se avessimo giocato di lunedì tanto sempre quella partita di merda andavi a fare sempre a fatte pia per culo andavi non riesco a capirlo e mi dà anche tanto fastidio tanto tanto fastidio perché personalmente credo che queste cose noi tifosi che andiamo là che li seguiamo ovunque non ce le meritiamo andare a farci prendere per il culo non ce lo meritiamo ci sta che affrontiamo l'Inter e che l'Inter faccia una partita pazzesca che ci distrugga non è questo noi abbiamo scelto di farci distruggere queste dichiarazioni mi fanno vomitare ciao raga